va bene siamo qua sta arrivando la macchina che tutti hanno sognato per tantissimi anni mamma mia arriva arriva ma sta sentendo un rumore in lontananza eccola lì in fondo al semaforo arriva no di qua di qua di qua di qua di là dove vai purtroppo kit ha un aggiornamento perché ha un problema con il navigatore ha sbagliato strada ma sta arrivando sta arrivando sta arrivando arriva arriva mamma mia mamma mia diciamo che Michael Knight è cambiato un po' perché è rigiovanito però la macchina è quella che rumore fa ma è micro grazie a tutti Grazie a tutti.